Ciao mio caro amico aspirante trader professionista e profittevole oggi è lunedì 10 dicembre 2018 e lascia i dimostri trade profittevoli che ho fatto come vedi questo è il range più tu usa di venerdì scorso è stato un trend day a ribasso e c'è questo importante livello color magenta questa linea color magenta poi questa linea magenta tratteggiata e questa linea magenta tratteggiata ci sono tre distribuzioni una, due e tre poi ovviamente i livelli importanti sono il minimo overnight e il massimo overnight come vedi la sessione asata è andata a ribasso la sessione londinese è andata a rialzo e noi abbiamo aperto veramente intorno a quest'area qua questa linea tratteggiata color blu chiaro delinea le due distribuzioni overnight la distribuzione di sopra questa qui la distribuzione di sotto bene il trade che ho fatto io entrare short a 35 minuti scusami alle 15-35 5 minuti dopo l'apertura dopo questo rally high veramente sono notato lo stop loss soprattutto il mio primo target è proprio questa linea tratteggiata color blu chiaro la divisione tra la distribuzione di sopra e la distribuzione di sotto overnight e l'ultimo target è uno o due tiche sopra il punto di mezzo della sessione overnight sono entrato perché innanzitutto su questa candela perché c'è questa sequenza dei clank quindi sulla prima candela 30 minuti e con questi due grossi ogni vendita catastrati quindi tra intrappolati questa zona vi indicava intrappolati long traders e long ok e quindi io sono entrato basandomi su questi dati il mercato mi vede anche attraversato questa linea verde che è il 7000 frasi di Chicago il mercato accederà rimbalza per un tiche non mi prende i miei primi tre contratti perché sono entrato con quattro contratti short è una posizione moderata bene il mercato mi prende i miei primi tre contratti a questo punto muovo il mio stop loss da qua sopra in 3 list of profit a break even più 1 bene a questo punto cosa aspetto il mercato accederà ribasso ma in realtà rimbalza mi butta fuori e il mio primo trade si conclude profittevolmente con 537,50 di profitto caro amico se anche tu vuoi trarre in questo modo fare meglio di me nel mercato dei fiusi dell'azione delle opzioni vuoi cambiare per sempre la tua vita e i tuoi profitti facendo diventare consistenti allora scrivi la tua storia adesso e mandami il link sotto a questo video caro amico ti auguro grosse grazie su questi profitti ad ogni tua prossima sessione di trading ciao dal mighty ci vediamo al prossimo trade profittevole ciao ciao